ciao a tutti parlo agli amici del mio canale di youtube che naturalmente saluto tutti in maniera affettuosa e vi ringrazio praticamente per per seguirmi volevo parlare oggi di un caso che non non ha a che fare con il calcio sapete tutti mi conoscete con una grande passione praticamente anche per i motori per la moto gp per le moto da sempre insomma dagli anni 80 quando più che moto gp era moto mondiale le 500 le mitiche 500 ora voglio ripartire da quello che sta succedendo in queste ore ormai di tendenza anche nei vari social ossia l'uscita di valentino rossi che a me mi ha colpito in negativo lo dico subito faccio questa brevissima diciamo parentesi è un grandissimo campione il più grande ha fatto la storia di questo diciamo sport e nessuno gliela può discutere poi possiamo fare delle valutazioni su quello che è stato l'era di valentino rossi che arriva quando sono usciti tantissimi campioni dell'era delle 500 l'ultimo era duan poi da lì arriva valentino rossi che batte una serie di di piloti che diciamo hanno sempre dimostrato di essere nettamente inferiore a lui sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista anche della testa perché lui li ha sul classati anche dal punto di vista psicologico valentino rossi ora vince nove mondiali grandissimi diciamo risultati grandissimo spettacolo trasforma la moto gp anche in una sorta di stadio questo a me è piaciuto meno vi devo dire la verità perché poi si sono create delle fazioni molto forti cioè siamo arrivati allo sta al tifo da stadio nella moto gp che a me sinceramente non piace perché poi parliamo di piloti che mettono a rischio la loro vita sempre quindi bisognerebbe apprezzarli un po' tutti da questo punto di vista e battere le mani e chi poi raggiunge traguardi importanti è ritornato sul caso se pang sul caso mark marquez usando una parola secondo me troppo forte ha parlato di pilota sporco e proprio adesso proprio adesso parto dal presupposto che tornando indietro al 2015 io credo che insomma lì c'era il marquez il giovane marquez che voleva spidare in tutti i modi il grande campione il mito e forse metterlo anche a tappeto in un certo punto di vista per la prima volta valentino rossi ha trovato l'avversario forte psicologicamente forte nella testa con un grandissimo talento e lì si è scontrato con qualcosa di molto simile a lui io ho sempre ritenuto che valentino rossi se si guardasse allo specchio beh se si guardava allo specchio in quel momento avrebbe visto l'immagine di mark marquez 2.0 con una testa ancora più forte della sua sinceramente pronto a duellare fino al limite fuori anche superando il limite ma negli sport e l'abbiamo visti di tutti i colori diciamo far perdere un avversario per non fargli vincere il mondiale la formula 1 insomma abbiamo tantissimi esempi ora torna su quell'episodio definisce sporco mark marquez però attenzione lì è lui che dà il calcio lui dice che non si ricorda la caduta ha detto no lui è caduto non cade mai non è vero perché marquez è caduto nella sua grande carriera è caduto spesso però lì il calcetto si vede e non può essere negato e poi ricordiamo anche che anche valentino rossi in passato da giovane insomma di cose ne ha fatte di cose che ci dovrebbe spiegare anche lui ne ha fatte però si focalizza solo su questo ed è un peccato dopo dieci anni uno che ha vinto nove titoli mondiali dovrebbe secondo me viaggiare ad un ad un diciamo passo superiore andare oltre tra l'altro si dovrebbe parlare anche del suo team che ha fondato e che attenzione il prossimo anno avrà una moto ufficiale ecco allora io dico che c'è una strategia sotto c'è una strategia perché proprio adesso quando ormai da un po di tempo sappiamo che mark marquez guiderà la ducati ufficiale c'è l'attacco frontale di valentino rossi tirando fuori ancora quella quella situazione dove lui secondo me anche ha delle responsabilità perché lui ha duellato ha voluto duellare ha cercato il corpo a corpo perché se in quella gara in quell'occasione lui non faceva quel gesto perché lo ha fatto forse non sarebbe stato retrocesso nella griglia ultimo a valenza e forse poteva ancora competere con il mondiale poi lui dice si doveva fare i cazzi suoi marquez e perché si doveva fare i cazzi suoi perché lo doveva far passare dove far andare no ha voluto battagliare ed è giusto che lo abbia fatto secondo me mettendo anche in difficoltà un grande campione che lì non se ne poteva andare questo il problema però ripeto cose strane nello sport sono sempre accadute anche al limite lo stesso valentino rossi potrebbe spiegarci tante altre cose no che che sono avvenuti negli anni dove dominava in pista ma anche fuori dalla pista perché politicamente ha sempre avuto una grande forza e comunicativamente è stato sempre appoggiato da tutti in maniera forte anche nei duelli con viaggi nei duelli con gibernao nei duelli con lorenzo poi per la prima volta ha trovato qualcuno che era molto simile a lui se non quasi più forte di lui sotto certi punti di vista e poi io chiederei anche alla ducati di un intervento in questo momento perché si sta preparando un terreno molto preoccupante per il prossimo anno perché mark marquez sarà in ducati e lotterà per il mondiale insieme a bagnaia e attenzione perché il team di valentino rossi avrà la moto che oggi è di martin quindi una moto molto competitiva e allora si sta preparando un terreno che sinceramente non è molto bello allora qui chiedo ai vertici della ducati e chiedo lo stesso da linea di intervenire e di dire al grande campione di stare calmo di godersi i suoi nuovi titoli mondiali e guardare avanti e non al passato perché se si guarda poi al passato dovrebbe tirar fuori delle cose anche lui che diciamo così richiederebbero delle spiegazioni questo è il mio punto di vista apprezzo valentino rossi in pista poco fuori in questo momento è stato un grandissimo campione marquez è un grandissimo campione due che la moto gp ha avuto e che li deve conservare un po' una sorta come cristiano ronaldo e lionel messi al prossimo appuntamento ciao a tutti